Dopo il macabro avvertimento, Lamberto Pianese è stato posto sotto tutela dai carabinieri. Il 63enne medico legale, consulente della procura di Avellino Benevento, con oltre 30 anni di esperienza professionale, sarà attenzionato da una pattuglia di carabinieri presso il presidio del Serta, Grotta Minarda, dove Pianese persa servizio da due anni e la sua abitazione ad Avellino. Una vigilanza attuata con discrezione a protezione della vittima dell'intimidazione. Domani mattina intanto il cuore di animale, custodito in una scatola indirizzato a Pianese, sarà sottoposto agli accertamenti di rito per verificare la natura dell'organo. Molto probabilmente si tratta di un cuore di maiale, quello fatto recapitare al medico legale presso la sede del Serta di Avellino l'altra mattina. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile, coordinati dal magistrato Paola Galdo. La zona dove è situata la sede del Serta in una traversa di corso Europa è priva di telecamere. Gli investigatori hanno però acquisito dei filmati ripresi dalla videosorveglianza installata lungo la strada. Immagini che potrebbero essere utili per tentare di identificare il soggetto che ha consegnato il pacco shock al vigilante sin servizio all'ingresso del Serta e un eventuale suo complice, molto probabilmente al volante di un'auto. Una scatola bianca con sopra la scritta computer personale per il dottor Lamberto Pianese. Giusto il tempo della consegna, poi il finto corriere. Un ragazzo esile, sui 30 anni, si è allontanato. Proprio dopo la guardia giurata, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da Pianese, ha aperto il pacco rivelando l'inquietante contenuto. Il professionista destinatario del messaggio, dichiaro stampo mafioso, ascoltato dalla polizia, ha dichiarato di non riuscire a comprendere perché di tale intimidazione nei suoi confronti. Un segnale che potrebbe essere legato alla sua attività professionale. Più che sotto il profilo penale, fosse una perizia nel civile, settore dove sono in ballo cifre importanti, risultata indigesta a qualcuno. Dal primo momento, Pianese ha escluso il coinvolgimento dei soggetti tossicodipendenti che ha avuto in cura il CERF di Avellino fino a due anni fa. Alcuni degli utenti, assistiti presso la struttura di Corse Europa, incrociati stamane, pur mantenendo riservata la loro identità, hanno voluto far giungere la propria vicinanza al medico avellinese, prendendo le distanze dal grave avvertimento eseguito con modalità proprie della camorra. Pianese, che così come ieri mattina si è recato a Grotta Minarda per lavoro, è stato subissato in queste ore da attestati di solidarietà provenienti da ogni fronte, una testimonianza autentica di quanto il medico legale si è apprezzato, rispettato anche fuori province. Una spinta in più per andare sempre avanti a testa alta nel segno della legalità, ha commentato il dottor Pianese.